Le indagini sugli attentati del 22 marzo a Bruxelles, rivendicati da Isil, hanno portato alla luce le ramificazioni europee delle reti jihadiste. Al terminal degli arrivi di Zaventem, dove 15 persone hanno perso la vita, l'unica certezza è che Najim Lashrawi e Ibrahim Elbakrawi si sono fatti saltare in aria. L'uomo col cappello che li accompagnava avrebbe lasciato la valigia con la carica esplosiva nel terminal e si sarebbe allontanato mentre gli altri due facevano detonare i loro ordigni. Ibrahim Elbakrawi, 29 anni, cittadino belga, era un extrapinatore, condannato nel 2010 a 10 anni di carcere, era stato arrestato alla frontiera siriana dalla polizia turca ed espulso verso i Paesi Bassi. Najim Lashrawi, 25 anni, belga anche lui, è ritenuto essere l'artificiere che ha fabbricato le cinture esplosive. Il suo DNA è stato trovato su due delle cinture rinvenute a Parigi, è stato in Siria nel 2013. L'identità dell'uomo col cappello resta un mistero dopo la liberazione lunedì di un sospetto arrestato giovedì scorso. Khalid Elbakrawi, il kamikaze che si è fatto esplodere in un treno della metropolitana alla stazione di Melbeck, era il fratello di Ibrahim. Belga, 27 anni, extrapinatore, condannato a 5 anni di carcere, sotto falsa identità aveva preso in affitto un appartamento a Charleroi per gli attentatori di Parigi, era sottomandato di ricerca internazionale da dicembre. È sempre lui ad aver affittato un appartamento a Forêt, dove la polizia ha rinvenuto il 15 marzo le impronte digitali di Salah Abdeslam, arrestato tre giorni dopo a Molenbeck, nella periferia di Bruxelles dopo una latitanza, durata oltre 4 mesi. Salah Abdeslam, 26 anni, francese, ma cresciuto in Belgio, ha confessato di aver organizzato la logistica degli attentati di Parigi, dove avrebbe dovuto farsi esplodere, ma ha cambiato idea diversamente da suo fratello. Ibrahim, 31 anni, era stato deportato dalla Turchia con l'accusa di volersi unire a Isil. Il 13 novembre si è fatto saltare in aria davanti a un caffè di Parigi. In questa foto, scattata l'11 novembre in una stazione di servizio francese, si vedono Salah Abdeslam e Mohamed Abrini a bordo di un'auto usata negli attentati di Parigi. Abrini, latitante da allora, è nella lista dei 50 criminali più ricercati in Europa. Belga, 31 anni, è cresciuto a Molenbeck come i fratelli Abdeslam e ha combattuto in Siria. Giovedì scorso, la polizia francese ha arrestato nei pressi di Parigi un uomo che progettava di commettere un attentato. Si tratta di Reda Crichette, francese, 34 anni, ex rapinatore condannato in contumacia in Belgio per aver reclutato aspiranti jihadisti per la Siria. Jamal Eddin Wally, un algerino di 40 anni, è stato arrestato sabato a Salerno e sospettato di aver fornito documenti contraffatti agli attentatori di Parigi. Il primo aprile la Corte d'Appello deciderà se estradarlo in Belgio. Grazie a tutti.